Atene è la capitale della Grecia, capoluogo dell'Attica, sorge in pianura e costituisce un unico agglomerato urbano con il porto del Pireo. Nata come Roccaforte H. Omicenea, Atene fu centro importante per la cultura dell'Occidente, con scrittori come Eschilo, Sofocle ed Euripide, filosofi come Socrate, Platone ed Aristotele, gli storici erodotto Ticiclide e Senofonte, il poeta Simonide e lo scultore Fidia. Attrazioni turistiche della città all'Acropoli e l'Omonimo Museo, il Tempio di Zeus Olimpo, il Museo Arcologico, le aree dell'Agora Antica, Agora Romana e del Ceramico, il Teatro di Dioniso, l'Odeon di Erodeattico, l'Aeropago e l'Antico Stadio Olimpico, sede dei primi giochi dell'era moderna. Un saluto da Atene! Un saluto da Atene!